Nella prossima puntata abbiamo parlato delle offerte che possono ingannare i pazienti che necessitano di cure particolari. Sì, io sono quelle che definisco sempre come al solito, il piccolissimo non visibile. Quindi bisogna stare molto molto attenti. E quindi uno è come... Il dottore... No, ma lascia prendere. A parte... Indirizzo mail, però adesso non mi ricordo il nome Gino, se non sbaglio. Non me lo ricordo. Ma per una semplice pulizia dei denti, quando non si hanno problemi, tanto vale tentare, rischiare, al massimo ci fanno la pulizia dei denti in maniera non corretta. Sì, e che poi vengono trovate cose che magari non so. Cosa, il gestore? No, particolari no. Nuovamente insieme con tanta salute con Lorena Marseglia, Viveros nella Medica. Ciao Lorena! Ciao! Di Viveros nella Medica. Adesso, potete vederlo sotto il raggio infrarosso uomo, un caso davvero incredibile. Ma come la mamma, perché poi, visto il figlio, alla fine non poteva... L'effetto di dover pesare 70 grammi di carne e 200 di verdure... Diventa stressante. Diventa frustrante. Soprattutto per chi ha un'attività lavorativa, insomma... Ma io credo... Marisa, ti dà quanti consigli a tuo figlio? Troppi. Ah, tu non mi avevo fatto lo stage, Davide Renznella. Quindi affiancava soprattutto il personal trainer, quindi dava consigli, no? Fatti questo esercizio, piuttosto mangia questo, piuttosto che è un altro alimento. E soprattutto di un po' più strato di nutrizionista. Ma come hai fatto, e passa parola, dai, mi sono affidata... In effetti ad Alessio. Ad alcuni professionisti. Alessio lo contattano tantissime persone al giorno. Sì, sì. Tantissime. Perché vedono appunto il cambiamento. E anche perché la gente è sempre... Perché tanta salute. Continua. Questa Cinzia Boschiero, Dottor Marazà, con loro sono arrivati alla fine di questa puntata. L'appuntamento è per settimana prossima. Buona continuazione a tutti.